Per il prossimo 25 aprile in Piatta Duomo, come tutti ricordate sarà il settantesimo anniversario della liberazione del nostro paese e quindi un appuntamento politico e sociale importante. La seconda cosa che volevo dire è che domani mattina con la partecipazione di Nella Costa al Teatro Studio Melato di Via Rivoli 6 ci sarà uno spettacolo che ricorderà la strage di Piatta Fontana, chi volesse partecipare è invitato ad andare, è già un ritmo. Grazie per la presenza, buona serata.